Divisione con il cambio Il cambio Il cambio Il cambio Il cambio Il cambio 10 divido 5 Quante volte sta il 5 nel 10? 1 2 2 volte 12 diviso 2 Quante volte ti sta il 2 nel 12? 1 2 3 4 5 6 6 10 divido 2 Quante volte ti sta il 2 nel 10? 10 5 12 diviso 3 Quante volte ti sta il 3 nel 12? 10 2 3 4 divisione con il resto 10 diviso 8 quante volte ci sta l'8 nel 10? una una volta con il resto di 2 calca la divisione e poi scrivi il risultato 1 2 3 4 14 diviso 7 2 1 2 3 4 20 diviso 5 4 1 2 3 4 5 5 15 diviso 3 uguale 5 5 calcola la divisione con il resto per scrivere il risultato 1 allora 15 diviso 8 uguale 1 con il resto di 7 1 10 diviso 8 8 uguale 1 1 con il resto di 2 1 1 2 2 3, 22 diviso 7 uguale 3, con il resto di 1.